ciao ragazzi oggi voglio far vedere un cane che non è tanto normale diciamo ed è questo qua che sarebbe l'airdale terrier che si chiama akita e praticamente come potete vedere è bagato cioè è bianco doveva essere di questo colore qua ma è bianco adesso si è pure messo a dormire non lo posso neanche accarezzare sembra che lo faccia apposta però vabbè niente ragazzi devo solo far vedere questo cane bianco ciao ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao